Il processo per il crack di Veneto Banca a Treviso si aprirà il prossimo 24 ottobre con un unico imputato, l'ex direttore Vincenzo Consoli. Il Codacons nazionale lancia un appello ai risparmiatori truffati, quello di costituirsi parte civile nel procedimento. Ma il presidente Veneto dell'associazione specifica ai diretti interessati qual è l'effettiva valenza di un passo di questo genere. Nel Codacons è una miseria, sia la soluzione è giusta per esercizare gli risparmiatori, no, è una miseria, resta una schifezza e resta una schifezza che arrivi dopo tre anni che la stiamo aspettando. Io citerrei che molti si costituissero come parte civile, però badate che il costo ha come ritorno soltanto una soddisfazione civica, non una prospettiva patrimoniale. Chi tra l'altro, anche attraverso Codacons, si era già formalizzato come parte offesa, potrà rinnovare la Costituzione a costo zero. L'altro fronte, quello dei ristori, procede con la restituzione del 30% del capitale, ma l'associazione dei consumatori prosegue la battaglia dura ma mai sopita, dice Conte, per il recupero del 100% di quanto perso. La strada per avere il ristoro, l'indemnizzo, l'esercizamento del 100% del danno subito è una strada complicata. Uno dei capitoli, uno dei nuovi è la Costituzione di parte civile, per segnalare che c'è un problema ancora grave, che brucia nella gente. Aiuto a tutti, quella di un alto numero di costituzioni di parte civile, perché torna a dire, segnala che il problema è ancora vivo.